Finisce con un pareggio che profuma di beffa il big match del Pio XII, dove la capolista Alba Longa attendeva la squadra più in forma del momento, l'Aquila di Morgia, accompagnata da 500 tifosi scatenati. L'Alba Longa e l'Aquila hanno dato vita a una gara bellissima, intensa, con sorpassi e contro rimonte, in bilico sino all'ultimo secondo, quando ganci aggraffiati Castellani che già assaporavano i tre punti in bocca. Ma sarebbe stata una sconfitta eccessiva per l'Aquila, che ha dato prova di un potenziale tecnico impressionante, sapientemente amalgamato nel 3-4-3 iperoffensivo disegnato da Morgia. L'Alba Longa all'ottavo nel primo tempo, è andata sotto ma ha saputo riprenderla con un carattere da leader, doti che i ragazzi di Cappara stanno studiando da inizio stagione. Gara subito viva, al secondo di gioco Tomassini scalde quanti di farroni, sicuro in presa. Al quarto minuto proteste ospiti per un sospetto mani in aria, Panini si addormenta e Russo si esalta, il cross finisce sul braccio di Damburlani che però sembra attaccato al corpo, si gioca. Al nono minuto corner per l'Aquila, Giorgio Lavista prova il destro da fuori, alto. 6 minuti dopo la risposta dell'Alba Longa, gran palla di Angeletti per Tommasini, il 9 scaccia di testa al lato con molti rimpianti. È una gara bellissima, l'Alba Longa ci crede ma né Corsetti in acrobazia né Delgado in tapin fanno male a farrona il 17esimo. Al 34esimo proteste Alba Longa, Delgado recupera un pallone che sembrava perso, salta un giocatore, scarta anche Esposito che lo atterra. Sembra rigore ma V-mercati lascia proseguire. Nel finale l'Aquila pressa e sfiora il gol con Nicola Russo, Grillo mette in angolo sui cui sviluppi né Pepe né lo stesso Russo ne approfittano. Nella ripresa l'Aquila fa sin da subito alla partita, dominando nei primi 20 minuti di gioco. Forti di un possesso palla schiacciante, gli ospiti trovano anche il gol con Valenti, abilissimo al nono minuto a sfruttare un'altra disattenzione di Panini. Oggi sotto tono, 1-0. L'Alba Longa soffre, arranca ma dal ventesimo in poi reagisce. E come reagisce? Al 26esimo Corsetti prende palla sulla destra della tre quarti, taglia l'era come un coltello e rilega con un bel diagonale una rete bellissima sul secondo palo che vale il pareggio. Al 31esimo Cruz, entrato in campo nel secondo tempo, viene lanciata rete da Pintori. Farroni lo standa al limite dell'area, giallo giusto in virtù del nuovo regolamento che grazie ai portieri sulla punizione Pintori non perdona e batte Farroni sul suo palo, piazzato malissimo, è 2-1. Sembra tutto finito, Minincleri si fa espellere per protesto al 35esimo, Cruz potrebbe arrotondare ma non c'entra la porta al 44esimo. Invece l'Aquila è ancora viva e getta i suoi artigli sulla preda che pensava di essere ormai in fuga. Punizione per l'Aquila al 47esimo, c'è Massimo Ganci sulla mattonella che la mette dentro alla bella e buona. Una deviazione, forse di Tamburlani, inganna Grillo e fa finire il pallone nel sacco, due pari. Al balonga beffata è l'Aquila che mantiene l'imbattibilità che dura ormai da sei turni. Un bel regalo per quei fantastici 500 tifosi giunti sino ad Albano per quei colori così vivi nel loro sangue e sulla loro pelle.